Contro questi balordi Benvenuti in Kiwi E oggi siamo qua in un campo di calcio Voi mi dite perché? Perché tratti calcio che non ho mai trattato? Non lo so manco io Vabbè, però mi hanno chiamato perché stanno iniziando Stanno facendo un torneo di calcio particolare qui a Roma Cioè stanno tipo dei rider, dei lavoratori Qualcuno che sta a fare tipo un mini campionato a Roma Che ancora non ho capito bene Che cos'è, però mo' ci facciamo spiegare da quello che è il capoccia diciamo Quindi, vedi, già stanno, se stanno allenà Se stanno allenà Mi parlano belli piazzati Il portiere, raga Oh, il portiere, il portiere, il portiere para tutte secondo me Para tutte, para Quindi iniziamo tra poco E vediamo cos'è che ci dicono Cosa ci dicono di questa cosa del campionato Che ancora non capita bene Andiamo a vedere, andiamo a vedere Chi sei tu, chi sei tu? Io torno Vax, taxi e... Ma staccarcax fra un pochetto lo faccio obbligatorio Sono tassista io Sei tassinaro? Oh, quindi oggi era rider contro tassinari Oggi sto con i miei amici No, oggi sono amici Domani che lavoro sono nemici Vabbè, oggi sono amici però Vabbè Senti, ma come finita sta partita? Dai, bene, bene Un po' faticosa Quanto avete giocato? Eh, ma ho giocato un'oretta e passa Belli e bella tosta Ma tutto vero? Tutto vero, tutto vero Non è che mi preoccupa Non scherzo No, no, no Ma come ti chiami tu? Io Andrea, piacere Andrea, io so Kiwi Kiwi Qui mi raccoma Kiwi, comunque chi sei magna? Kiwi Dai, mo andiamo a Gigi A Gigi Vi è qua, vi è qua Gigi, che fai? Se sta copri Gigi Se sta copri Gigi Oh, eccolo, eccolo Speriamo che YouTube non ci blocchi il video Oh, resta pure tu qua Vi è qua, vi è qua Ando vai, vi è qua Allora Allora, 60 minuti Allora Vi è qua, vi è qua Allora, come te chiami innanzitutto? Chi sei tu? Io sono Luigi Del Vecchio Sono un rider Capitano della rider Della Roma rider calcio a otto Anzi, Sporting Lamp Ha cambiato nome Gli sta a squillaccia all'ordine Questa era un'ennesima prova Prima del torneo Oggi abbiamo vinto 3-0 a tavolino Perché la squadra avversaria non si è presentata Quindi abbiamo fatto un amichevole Tutto sommato la squadra c'è Quindi martedì, mercoledì prossimo Ci sarà la seconda giornata del torneo E speriamo bene E tu invece chi sei? Io sono solamente l'assistente tecnico Oh ragazzi, abbiamo pure l'assistente tecnico Come ti chiami? Paolo Soverchia, rider di Roma Rider di Roma, ho capito Quanti anni hai? 35 Se puoi dire Sono vecchio ormai per giocare tutti i giorni Ah, non la fa, non la regge più Non la regge più la pompa Non la regge Solo in po' Solo in po' Solo in po' Senti Gim, ma mi spieghi un attimo Che è sta cosa del torneo? Mi spieghi un attimo Allora, il torneo come potete vedere Allora In Europa League E si forma un campionato Solo andata Il primo che arriva vince il campionato Poi ci sarà la Champions League L'Europa League E poi Chi vince il campionato Ci sarà il confronto con gli altri Diciamo Società sportive Sempre qua vicino Farà insomma Un incrocio di partite Un torneo fatto con altri club Ho capito Senti un attimo Ma tu mi hai parlato di Champions League Europa League Sì Ma ci sono delle cose che non quadrano Cioè È di Roma È di qua Non è quello No, loro la chiamano Le prime quattro vanno in centro Ah, è un modo di dire Sì, sì Ah, ecco Ma stavo a cervellare Non c'è Stavo a capire più niente Già del calcio non c'è capisco più niente Più questo mi fai i nomi così Vabbè, ho capito Quindi oggi era Che partita era? Era un amichevole Un altro test Perché come ripeto L'avversario ha dato forfè Si è cagato sotto Eh, poi Si è cagato sotto Si è cagato sotto Hanno dato forfè Quindi noi abbiamo vinto 3-0 a tavolino I primi tre punti in classifica Dai Quindi Ah, quindi Fammi capire Oggi dovevate giocare una partita ufficiale Ufficiale, esattamente Quella squadra si è cagata sotto Ma che cazzo stiamo a fare Se ne andiamo Giusto? Esatto, esatto E ha detto vabbè Ciò Diamo forfè e via Tre punti in classifica Beh Certo a noi La cosa avrebbe fatto più piacere giocarla Anche Anche persa 6-0 Era uguale Ma volevamo giocarla Però La Roma Raider Sporting Lab Ha preso i primi tre punti In questo torneo Roma Raider Roma Raider Perché è una squadra di tutti Raider Siamo tutti Raider Globe e Deliver Insieme di Roma Globe e Deliver Insieme di Raider Quindi Raider Hanno fatto una squadra E le altre squadre Dimmi qualche altra squadra Che ci sta Tipo quella che si è ritirata Il Villareal Villareal Il nome Il nome Presidente Signora I limoni Signora Presidente Allora Marco Di Giacomo Raider di Roma Presidente della Roma Raider Sporting Club Presidente Vieni Via qua Presidente Via qua Ah lui è il presidente Della squadra Oh presidente Presidente onorario Presidente onorario Oh No no Stava chiamando Allora Senti Quindi La squadra che si è ritirata Chi è? Sta a far Macello Allora Allora La squadra che si è ritirata Chi era? Mi spieghi Mi dici La squadra che si è ritirata Dopo che ha visto giocare Il nostro grandissimo capitano Ha detto che si chiamava Villareal Via reale Però dopo che ha visto Purtroppo giocare Le prestazioni del nostro Grande capitano Si sono proprio ritirati Si sono presentati Hanno annunciato bombe d'acqua Ma chi erano? Altri lavoratori? Chi erano? Fammi capire No Non conosco la squadra Però penso che siamo noi Abbiamo preso tutti Guarda Non abbiamo badato spese Non si è badato nessuno Quindi Il problema è che purtroppo Per i soldi Dovete rivolgervi Alla nostra segretaria A lui Magari Magari a lui Lui c'è i soldi Magari a lui E chiedono i soldi a mia moglie Arte povera No Il parole povere C'è chi deve pagare Dici chi è che deve pagare No Chi è che alla fine Diciamo Il presidente Sì Questo sì Però i soldi Chi li gestisce Mia moglie Mia moglie E sono sempre le donne che comandano Raide a Roma Vanessa Fossella Sono sempre le donne che comandano Partite dal presupposto Che scordatevi che escono i soldi Comunque dai È stata la settimana Dai È iniziata bene È iniziata bene È iniziata bene Il campionato Dai Che macco ci credevamo Però Lì Meglio tre punti Che in carcia al culo Giusto Vabbè Quindi abbiamo visto Ste squadre che stanno a giocare Quindi Raga Mi raccomando Alla prossima Intervista che andiamo a fare A sti tipi che andavano a giocare a pallone Fanno sto campionato Andiamo a vedere A fine campionato Chi è che ha vinto Se i rider hanno vinto Io tifo per i rider Se hanno vinto i rider Oppure qualche altra squadra Ok Mi raccomando Raga Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Commentate Insomma Ho fatto tutto Il coso che dovete fare Che non fate mai Eh Dai Dai e She Dai e Dai e Dai e E Il coso che vuole Il coso che vuole Un'illianz Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti